Sicuramente siamo carichi perché è un derby importante per le due società, ma è anche una partita importante per la qualificazione alla Coppa Italia. Ci mancano due turni quindi una vittoria qui sarebbe molto importante. Ci siamo preparati bene, come al solito, sarà una partita tosta, fisica, però siamo carichi e fiduciosi. Sicuramente c'è stata una crescita durante il passare del tempo e l'abbiamo dimostrato partita dopo partita. Le chiavi sicuramente saranno la difesa, che è la nostra caratteristica fondamentale. Quando riusciamo a difendere bene riusciamo a correre anche in contropiede, quindi credo che l'aspetto principale sarà questo. E poi di essere continui e costanti durante la partita.